Buongiorno, ciao tesori, benvenuti in un nuovo videoblog al mare Siamo io, la piccolina, il mio compagno e siamo Gioca, gioca tranquilla lì Bommete! Bene! Lara, mettiti qui all'ombra però amore Lara, mettiti qui all'ombra No, lì c'è il sole, buba Non senti che brucia? Esatto, mettiti qui al sole Ehi, tia! Devo essere sincera, qua si sta in paradiso E adesso c'è Lara che sta laggiù con Vale Che giocano e si divertono un attimo Credo che oggi è la notte di San Lorenzo Quindi andremo, vedremo le stelle insieme A tutti i parenti così E niente, tutto qua Comunque, ora vi faccio vedere un pochino il mare Che qui dovrebbe essere abbastanza abilito Anzi, andiamo a vederlo su qui A morire di mamma Ciao Lara, tieni Ciao, metti queste qua papà? Sì Guarda che bello Guarda che bello Devo essere sincera Quest'acqua è meravigliosa È vero mamma? No No No, a lei non piace Che cosa? C'è una barchetta? Dice che le boy sono barchette Guarda che bello Dai dillo E a me non lo tembo Certo Non le piace più di tanto Vabbè Ma la sciacqua e la riporto dentro Stiamo andando Non so manco io dove Ma io sono già pronta con la mia bella mascherina Perché le mie intenzioni ovviamente sono quelle di guardare Aia Sotto il suolo Voglio vedere che cacchio c'è E chiaramente venite con me Quindi aspettate Metto la mascherina Oh quella mascherina è tutta un'altra storia Ok Vediamo un po' È stupendo Stiamo facendo un pochino di immersioni E sinceramente con questa mascherina è tutto molto più semplice Quindi adesso vado giù E vi faccio vedere che meraviglia Praticamente siamo vicini degli scoi Solo che non so bene quali animali possano esserci dentro Quindi sto un po' a causa Però adoro sta mascherina Proprio bello Vediamo se riesco a fare di più Mi ha dato un pochino di acqua Va bene Comunque vado a vedere se sono tornati Vale la piccola perché La piccola voleva delle patatine Che alla fine sono tormentata E non ho mangiato niente oggi Quindi Vado un attimo Mi asciugo Mi asciugo E poi ci riproviamo Ok Questo è l'outfit di oggi Chiaramente non sto assolutamente con questo Ma ho i pantaloncini sotto Comunque lo trovo qua Guarda il boccato Ah di adesso che mi piace tantissimo L'ho comprato Oh Dio mio Che l'ho buttata da poco Sfigate Sfigate Ok Stop Allora tesori In realtà è una cosa che già ho scoperto da 5 secondi Cioè da un pochino di tempo Diciamo 3 ore Però ve lo dico adesso Perché praticamente Allora che Aspettate che sto facendo discorsi senza senso Perché sono emozionata Allora che è successo In tutto questo mi avete lasciato in spiaggia Dalla spiaggia Credo Credo che non abbiate visto altro Non lo so Non mi ricordo Comunque dalla spiaggia Che cosa è successo Dalla spiaggia siamo tornati a casa Ci siamo fatti le docce Siamo tornati un attimo a Lecce anche Con mamma per comprare alcune cose Perché stasera facciamo la brace Su quella brace laggiù in fondo Adesso è venuto anche il mio cugino Insomma siamo un po' di persone Non so quanto riuscirò Aspettate che c'è Lara Che non riesce ad aprire la caramella Non so quanto riuscirò a registrare Perché insomma Sapete no Adesso quando c'è la famiglia Cerco di registrare meno Però Insomma vedrete Che c'è Lara? Non ti piace? No sta ricopiando me quello che ho fatto prima Che non mi piaceva la sputata Lol Perché mi ricopi? Vabbè comunque sia Insomma siamo andati a Lecce Abbiamo preso mio cugino appunto Da casa dei nonni Dopo vengono anche i nonni Tutto quanto E facciamo la rossicciata Ma Qual è la cosa meravigliosa? Che siamo arrivati a 100 Eh? Eh buono Siamo arrivati a 100 mila iscritti Il che è veramente eccezionale Non me l'aspettavo assolutamente Di arrivarci poi così tanto tempo Perché io sono Sono sul web Sono su youtube Da nemmeno due anni Cioè facendo video Quindi arrivare in meno di due anni A 100 mila iscritti E superarli Io boh Non so veramente come ringraziarvi Il mio canale è il vostro Quindi Non vedo l'ora di portarvi I migliori contenuti in assoluto E Boh grazie Ovviamente ci sarà il 100 mila iscritti Però purtroppo non posso farvelo Cioè lo speciale 100 mila Ma non posso farvelo subito Semplicemente perché Non essendo a Roma Eh Non ho L'altra macchinetta Che mi serve per fare Gli altri video Quindi Cioè con questa GoPro Faccio soltanto i vlog Gli altri video Li faccio chiaramente Con le macchinette normali Quindi Vediamo insomma Come riesco a regolarmi Lara mangia quest'altra Questa non ti piace Detto? Nando qui Dato che siamo appunto qui Ma vediamo insomma Come faremo Però Insomma Vediamo Vediamo che cosa facciamo Comunque Cercherò di portarvi Lo quanto prima Il 100 mila iscritti Abbiamo iniziato a fare La rossicciata Adesso ve la faccio vedere Perché è davvero bella Cioè vi faccio vedere Il fuoco Aspettate Ok Mari Che bello Mari Togli il braccio Mamma mia Questi sono i fruttoni Mamma mia Mamma mia Dovrebbero vedersi Dovrebbero vedersi le stelle cadenti Aspettate che vi fa Oh scusate Si A mezzanotte Si dovrebbero vedere Le stelle cadenti Adesso vi faccio vedere In cielo Allora Lì C'è la luna Là sopra E lì Tutte le stelle Ma Che da qui Si vedono tutte le stelle Che ovviamente da Roma Non riesco a vedere Manco se mi ammazzo Perché ci sono troppe luci Che No Quindi adesso spegniamo Quella di luce Quella che mi vedete per di qua Che mi fa la faccia figa E Non lo so È nero È nero Dice E speriamo che non sarà nero In post produzione Porca miseria Ci starò una settimana Ma riuscirò a farvi vedere Queste stelle Se 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 non riesco Poi in post produzione Qua sotto nei commenti Scrivete Fake Si perché Il La cosa Non è Aspetta Aspetta Che cosa No Saluta Ciao E poi ti stavi Con la Lara Con la Lara Con la Lara E quindi Vai E quindi Ciao Eh ma se vieni Pure di In questo momento Se ne sono andati tutti E Adesso c'è mamma E Vale Che sono andati a Il mio compagno Insomma Che sono andati A mettere a posto La macchina E Niente Comunque In questo momento Mi si è rotta la ciabatta E Comunque Niente Io Ho appena notato Che sono quasi a 101 Mille iscritti Quindi Wow Non Non ci posso chiedere Vi prometto Ve lo giuro Che farò Lo speciale 100 mela Comunque La bimba sta dormendo In questo momento Si è addormentata Prima Mentre giocavamo a carte E Aspettate Che Gio con la scarpa rotta È un po' difficile Però Non abbiamo visto Nessuna stela cadente Qui c'è Sta pure la musica Aspettate Che vi faccio vedere Anche Con me Guardate un po' Aspettate Guardate che bello È proprio Grande Poi noi siamo qua invece Proprio vicino All'uscita Vabbè Comunque È proprio Oddio Ho Sta scarpa Che non mi fa camminare Comunque È proprio bello Qui Sono stata benissima Poi comunque Sera appunto C'è la mia nonna Che non la vedo mai Perché è qui a Lecce Troppe api E lì Bellule È lì Ma poco importa Il problema sono le api E ce ne sono Davvero troppe E quindi Non Non ci andiamo lì Abbiamo deciso Che anche domani mattina Andremo appunto Al mare Quello che avete visto Di stamattina Quindi Detto questo Io Vi ripeto Per l'anissima volta Che si avvicina Sempre di quel momento In cui mi vedrete Invece andare A casa Della Fan Tra piccolette Insomma Uno di questi sorrini Quindi tesori Io adesso vi mando Un grosso Grosso bacio Perché Finisce qui Il vlog di oggi Sicuramente Ci sarà il vlog Di domani Cioè Tanto vlog Tutti i giorni Quindi Io vi mando Un grosso Grosso bacio Vi ringrazio tantissimo Per essere state qui con me Vi mando Un bacio grandissimo Lascia un bel mi piace Se il video ti è piaciuto E se ti va Commenta E iscrivi Che è gratis Comunque Cioè È sempre gratis Iscriversi Se vuoi rimanere in contatto Con me È l'unico modo Perché sennò Mi perdi Le meandri Di youtube E poi Come famo Io senza di te Come faccio Ando per un tattaro La vita Tocco Cercando Te Alcocito 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 Alcocito